Ciao ragazzi, eccoci qui con la parte 2 della nostra aratura, della nostra trebbiatura, quindi del nostro campo, noi abbiamo solo un campo che è il 15, il 16, i campi sono segnati di verdi, ancora non abbiamo solo uno che è quello che ci danno con l'inizio del gioco, comunque ci regalano questo campo, non possiamo fare un granché adesso, per il momento con un solo campo, dobbiamo lavorare sempre questo qui intensamente, sarebbe più produttivo lavorare almeno noi un po', però no, no, avete sbagliato proprio canale, io non voglio andare a lavorare sul campo lei, anche perché devi stare lì attento a mantenere la linea, anche perché poi dall'interno non è che si capisce bene, io poi avrei sviluppato meglio il gioco per il supporto ai volanti, cioè secondo me col G27, questo qui, giocato, cioè adeguatamente, perché adesso ci ho provato a giocare col G27, è una cagata assurda, non lo fate, non serve a niente, non serve, dovete stare lì a settare tutto il mondo, il mondo non si è fermato mai un momento, no, non vale la pena giocare col G27, ve lo dico già adesso, è brutto, invece io l'avrei sviluppato un po' meglio, perché magari con un G27, cioè avresti reso tutto il gioco un po' più simulativo, più bellino, anche se poi i trattori hanno lo sterzo così, non così, che poi non è che lo sterzo, lo sto mungendo lo sterzo in questo momento, vabbè, non ci prendiamo delle domande sempre, lasciamo stare, lasciamo perdere, a ritorno dobbiamo sviluppare la nostra MT3 che come detto va molto veloce, sta facendo un lavoro, non so perché qua ha lasciato questo ciuffo d'erba, poi me lo spiega, il signore forse è drogato adesso, perché lo vedo che va a zig zag, si è drogato all'operaio, bene, se voleva, intanto questo qui ci sta arrivando addosso, ci viene sopra adesso, no, ci viene sopra no, è un doppio senso e non lasciamo stare, non ci viene sopra, ci viene sopra nel senso che ci hara pure noi, e anche quello è un doppio senso, vabbè, lasciamo stare dai, diciamo che i miei video sono pieni di doppi sensi, non so perché, solamente contorta, la mente malata, va bene, comunque andiamo avanti e finiamo di harare questo maledetto campo, tanto che sarebbe stato, cioè se avessi avuto un altro trattore, l'avrei fatto partire adesso, per seminare nel frattempo che questo hara è quello che raccoglie, quindi tre trattori che lavorano mentre noi li guardiamo, però non ce l'ho, purtroppo dovremmo magari riprenderlo, però poi facciamo un casino, no, potremmo fare, scollega il rimorchio, scollega il rimorchio, ricollega la seminatrice, no, guardiamo del tempo, qui non vedo una merda, ok, eccolo, lo vedo, lo vedo, facciamone un doppio colpo, riclazzo, dai figlio della vignotta, vai, vai con due, questo trattore non ha ripresa neanche a pagarlo, ok, allargiamoci un po' e controlliamo la distanza dalla multitrebbia, perché sennò è un casino, svuotiamola come sempre, e questi quasi potremmo andare a svuotare, non so se andare a svuotare direttamente lì sotto, vicino al campo, numero 17, 18, che sia, 19, boh, chi lo sa, 83, no, aspettiamo un altro po', dai, facciamo un altro po' di cosine e poi lo svuotiamo, vabbè, ti lascio qui, eh, facciamo un doppio colpo di claxon, sempre, un doppio colpo di claxon è il minimo da fare, anche questo qui, salutiamolo, vediamo un po' se ci saluta anche lui, ma vaffanculo a rispondere cortesia a una suonata di claxon, che è questa cosa che ti ha a tiri, intanto guardo sempre, quando sto guardando qui o mi sto guardando dentro al video, al monitorino della telecamera, perché, boh, mi guardo, diciamo che è abbastanza egocentrica la cosa, però, non ci posso fare niente, chi mi segue su Facebook sa leggere anche le cazzate che scrivo, tipo quella frase che ho letto su In Segreto, per masturbarmi mi basta guardarmi nello specchio, quindi, diciamo che io posso fare anche così, eh, ma non lo faccio, eh, no, 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 è che non lo faccio, non mi gasturo più da una vita ormai, è una pratica che si fa in adolescenza, comunque, cambiamo tema subito, stiamo cautivando qui e cautiviamo, allora, intanto io volevo un altro trattorino, vediamo un po', guardiamo sempre il trattore, questo qui costa 94.000, 94.000 euro, e perché? A sto punto prendo questo, forse è più bellino questo, no, ma per 94.000 prendo il Deutz, almeno un Deutz, questo è un trattore tipo di quelli là, di seconda categoria, tipo i trattori indiani, questo è un trattore fotocopiato da un altro, e questo è il Deutz, che è quasi uguale, no, no, non sono uguali, questo è il Seim, il Seim fa belle cose, non so perché hanno preso questo, questo modello qui, bruttirello, ho visto alcuni Seim dal vivo, non sono male, sono anche abbastanza belli esteticamente parlando, non so perché erano fatti così bruttini qui sopra, cioè, poi non so perché hanno preso questo trattore qui a quadrato, trattore di una volta, ok, dai che dobbiamo svuotare questo signore, facciamo il doppio clacson, ok, capito, il doppio clacson secondo me è utile quando si gioca a multiplayer, single player, non serve niente, però, noi lo usciamo, ok, andiamo, non vedo più niente, maledetto albero, la texture degli alberi e della, comunque della flora, ma porca di quella troia, guarda questo, certo che è simpatico, invece di premere quattro, ho preso questo, ho caduto al trattore, no, sono caduto, sono volato fuori, la flora, o la fauna, no, la flora, in questo gioco è fatta un po' con delle texture di merda, da lontano si possono vedere, ma da vicino, sono delle cose inguardabili, cioè, sono dei fogli di carta che si muovono, questa cosa qui si è minata, quindi, la cosa, potevano migliorare un po' la texture, abbiamo sbloccato la cheerment, il frutto è della fatica, 10, 10 care, boh, non lo so, comunque adesso andiamo a svuotare questo nostro trattore, spostiamoci qua, corri, vai a 30, 30, 40 e andiamo un attimo a svuotarci, alla massima velocità possibile, che se io avessi quel lizard, quel camion della lizard, con il suo bel rimorchio, scaricherei sempre qua, quando faccio un po' di cose, riempio i rimorchi e vado a portarle, è inutile che sto lì sempre a fare 20 km, però, in questo momento noi non ce l'abbiamo, ah, dobbiamo passare anche della gallina, poi passeremo, vediamo se la gallina ha dato i suoi frutti, ah, sì, sì, lo vedo già un uovo, adesso andiamo a raccogliere anche le uova, dai, veloce, per favore, andiamo, adesso andiamo a raccogliere le uova, faccio vedere come il gallo è più rilassato, se fuma la sigaretta vuol dire che è da poco che hanno combinato qualcosa, però, noi non ci impromettiamo nella loro privacy, stiamo lontano da questi discorsi, se il gallo provo a 20% che fuma, è perché sa piatto, ha fatto l'uovo, no, ma il gallo lo fa l'uovo, è la gallina che fa l'uovo, e poi la gallina fa l'uovo anche senza gallo, quindi il gallo è inutile, fa, fa sesso senza amore in pratica, eh, però non c'è sesso, non c'è sesso senza amore, lui dice anche venditti, eh, qua non so cosa succede, la pasta sulle notarie si incasina il mondo, ok, salutiamoci un attimo, facciamo qualche soldino, dobbiamo arrivare a 90.000, no, ma li superiamo di brutto i 90.000, allora non so quanto si guadagna con la colza, boh, non lo so, vabbè, 120.000, 120.000, hm, possiamo fare dei soldi, possiamo comprare un altro trattore, chissà se va bene quel devoz, oppure farà anche lui 40 all'ora, cosa cazzo, vaffaccolo, guarda dove sono andato a sbattere, ah, dobbiamo ricordarci che abbiamo 45.000 euro di debito, quindi non è che possiamo stare qui a spendere, espandere, noi bunga bunga in questo momento non ne possiamo fare, dobbiamo aspettare un po' per fare del bunga bunga, intanto guardiamo un attimo se questo è il 40%, questo ancora non ci arriva più sopra, fermiamoci dalla gallina, vi faccio vedere anche le uova, che si sbriga questo trattolino, non va, non va, niente da fare, in modo qualcosa la compriamo, dai, compriamo qualche cazzata, no, anche perché se lavoriamo alla colza è inutile fare le balle, perché non si possono fare, e quindi non so se ci conviene, allora fermiamoci qua dal gallo, signor gallo, il gallo è il cognome, non è perché è un animale, vediamo qua come si salta, vediamo che io lo abbiamo visto qua, eccolo dov'è, eccolo dov'è, eccolo, un uovo, abbiamo preso l'uovo, sì, un più uno, signor gallo, salve, la signora gallo è questa, il gallo è il cognome, ripeto, è un cognome che esiste veramente, solo uno ne hanno fatto, ammazzo, non vi sprecate, un uovo alla volta, non mi posso fare neanche il zabaione, con un uovo non ci fate niente, manca la frittatina, mettiamolo da parte, che poi non so neanche come si vende l'uovo, forse devo andare, non so dove devo andare, ma noi non ci andiamo, lo teniamo lì, l'uovo, ma porca di quella trappola di noccioline, che ti cascasse il mondo, dov'è quell'altro, dove cazzo sei, eccolo, vieni qua, vediamo un bloccare questo, fra poco dovremmo bloccarlo, perché sennò fa un casino della miseria, no, dammi l'altro, l'altro, mazzo, questo gioco non mi ascolta per niente, non mi ascolta, svuotiamolo un attimo, intanto dobbiamo fare anche il pieno, non è che siamo pieni di benzina, abbiamo 95 litri, non sono tantissimi, forse sì, però dobbiamo farlo, il trattore sparisce, dai, fatti svuotare, benissimo, ok, stiamo svuotando la metitrebbia in modo corretto, come detto, con questa metitrebbia facciamo molto meno lavoro, non stiamo lì a diventare matti, si sbriga, ok, svuotate, non ne stiamo sempre lì a girarci accanto, altrimenti diventa, è più bello il multiplayer questo gioco, lo dico sempre, il multiplayer, purtroppo ho provato a giocare il multiplayer, l'ho trovato solo dove cazzo, sto andando, no, gira al contrario, che qua è come i camion, devi girare a destra per andare a sinistra, come i camion, insomma, fantastico, no? Intanto questo lavora, non è che io posso fare niente, finché lui non finisce, che poi sono indeciso se passare prima con la seminatrice e poi spandere il concime o prima concimare e poi passare con la seminatrice, non so se si può fare in tutti i due modi, perché io per esempio vedo i campi che in questo momento non sono coltivati, che fumano, lì è quando ci spargono il letame delle mucche di solito, quindi quando spargi il letame c'è un bel calore che viene in su, però ha una puzza assurda, il calore è calore, ma la puzza e puzza, preferisco morire di freddo a questo punto, non è che morire di freddo, io passo con la macchina di là, vabbè, comunque non c'entrava, quindi non so se si passa prima il concime o prima si semina, noi facciamo che prima seminiamo e poi passiamo il concime, boh, andiamo rallentati, ok, vediamo se riusciamo a fare il lavoro da dentro, ma com'è che non va, ah era troppo indietro, facciamolo da qui, dobbiamo guardare quello, ah bello, sogniamoli, guarda com'è serio, guarda, guarda com'è stato tutto ben impostato, guarda, oh come sono un super autista, una vacca che va, gira, ti faccio i tuoi salati, intanto lo stavo ammazzando, ok, abbiamo 5.000, quindi 5.000 saranno 15.000 euro, vediamo un po' quello lì, oh cazzo, è lì, vediamo un po' se è lì, sì sì, è qui, però dai, insomma, sta andando abbastanza bene, sta andando questa industria, sono solo preoccupato, vorrei, perché ho comprato un, lo faccio vedere, quello ho comprato, un seminatore, seminatore, seminatrice, ho comprato questa da 3 metri, però a sto punto vedendo che quella da 6 metri ce la fa, avrei comprato, no questa, no questa, questa, 6 metri, solo che non so se ce la fa a tirarla, non so se questa qui è molto, è facile da poi da guidare, perché a parte che qui si tira, però se riesce a portare il coltivatore, penso che possa portare anche quella lì, o magari compriamo prima un trattore serio, dai, è troppo presto, è che con 6 metri ci sbrigiamo prima, con 3 metri ci vuole del tempo, eh, eh, fai a seminare, fallo seminare, aspetta che finisci di seminare, se ne sbriga più a seminare, intanto vediamo che questo qui sta finendo, vediamo un po' se quello è, eh, quello lì dobbiamo tenerlo d'occhio, perché non vorrei che ci salisse sopra, perché è facile che si incontrino due operai e non sappiano più cosa fare, si mettono lì, si fermano, si guardano in faccia e non si spostano bene da una parte né dall'altra, infatti gli operai vanno sempre controllati, questo sto lavorando bene, sì sì sì, sto lavorando bene, dai, ci siamo, ci siamo, io quasi quasi la compro quella macchina lì, se questa va va, andrà pur quella, andrà, io non c'è bisogno neanche di tirarla, basta solo portarla, trainarla, secondo me ce la può fare, facciamo così, aspetto i vostri consigli per comprarla, secondo voi questo trattore, questo giallo e verde, può trainare, trainare l'Amazon Cagliena 6001, da 6 metri, sicuramente non traina questa, da 8 metri, però questa dai, da 6 metri ce la dovrebbe fare, e a comprare quella ci sbrighiamo molto, molto prima, vediamo il tipo qua, 43%, dai, ce l'ha quasi fatta, ha quasi finito, lo facciamo lavorare un po' e poi lo licenziamo, lo andiamo a mettere sotto il tetto, altrimenti viene la freddora e la macchina, quindi finiamo, farò sempre così, adesso finché ho questi pochi, finché erano questi pochi, finché ne ho un uro di campo, quello è, finché ho un campo, farò così, farò la ratura in due parti, non la ratura, sì, beh, comunque anche la ratura, la raccolta in due parti, la treppiatura, e poi quando avremo più campi, vedremo di diversificare un po' le cose, oh cazzo, questo non ci investe, questo non ci investe, quello ci investe, no, non c'è un distinto, quello non è, andiamo un po' indietro, dai, vai, vai, ok, è stato abbastanza buono questo acquisto di questa Deusfar, devo dire che sono soddisfatto per il momento, però adesso vi faccio vedere quello che voglio comprare io, tanto lì è vuota, vero, sei il 22%, esci qua, vi faccio vedere quello che voglio comprare io, come, 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 come cazzo si chiamano, lì, metitrebbia, metitrebbia, vi faccio vedere quale voglio comprare io, no, questa, no, questo ci serve per fare la pula, quello che vi ho detto io, per fare il biogas, ma io voglio comprare questa, che c'ha i cingoli davanti, questa è proprio cattiva, quanti cavalli c'ha? 571 cavalli di potenza, questo qui quanto ne ha? 410, no, queste sono uguali, solo che questo c'ha 4 ruote davanti sull'asse anteriore, invece questo c'ha i cingoli, ma prendiamo i cingoli che siamo più tranquilli, no, cazzo, ho sbagliato, siamo più tranquilli quando poi andiamo a, siamo sempre tranquilli, perché comunque qua non è, non c'entra molto la condizione del terreno, però per esempio, se il terreno è molto più umido, con i cingoli facciamo più presa, perché abbiamo una superficie d'appoggio maggiore, quindi distribuiamo meglio il peso, abbiamo più trazione, i cingoli infatti sono, non so, basta pensare ai carri armati, i carri armati hanno i cingoli, vai un po' più lento, però vai più trazione, comunque con la macchina della metitrebbia non è che può andare più di 10, è inutile avere una velocità maggiore, devo solo trovare una mod che si colleghi al camion, per poi avere, avere un, come dire, un, come si chiamano là, quelli che fanno salire sopra le altre auto, beh comunque un trasporto di mezzi, no, cazzo, vai, ok, mettiamoci qua a fianco, ce lo portiamo fino alla fine adesso, abbiamo finito questo nostro giro, scaricheremo, no, non andiamo neanche a scaricare, lo lasciamo qui da parte, andiamo a prendere il, come si chiama lì, il seminatore, iniziamo a seminare e così siamo a posto poi, a fine inizio a seminare comunque interrompo il video, perché poi è inutile anche, perché mi sa che siamo arrivati già al limite, non li sta lavorando, non si sono incontrati, perfetto, noi non ci scontriamo, scarichiamo questa macchina, possiamo il cassone, mettiamoci a seminare e chiudiamo il video, faremo, poi ci faremo, se si sbriga però quest'altro è 9, 10, sembra che devi pagarlo per farlo accelerare, la benzina la pago io, vai a quanto vuoi, no, anche a 50, 100, te frega, allora lasciamo qui questo trailer qua, trailer in inglese, questo si chiama rimorchio, lo mettiamo qui nel campo dell'altro, non so di chi sia questo campo, ma non ce ne c'è da un cazzo, spostiamo anche più avanti questo signore qui, chiudiamo il tubicino, mettiamola avanti così non si incontrano con gli altri camion, con gli altri camion, sì, con gli altri trattori, ok questo è quasi finito, noi andiamo a prendere la nostra metti trebbia, dai dai, accelera, no metti trebbia poi, andiamo a prendere la nostra seminatrice, non c'entra niente la metti trebbia, faccio la confusione oggi, vediamo dove l'abbiamo lasciato, dovrebbe essere qui, vediamo se è qui, se è qui, come hai detto c'è l'indicatore di porca, quindi noi lo teniamo attivato, se vedi una porca, indice, indicacelo per favore, porca, porca, ecco la porca è di là, ho la porca è di là, vedete questo qua ce lo dice subito, tipo tu passi, di là c'è una porca, subito mi toglie il braccio, anche di là, è semplice la cosa, ma va a far colatore le tue vitamine, vitamine poi, allora dai che abbiamo quasi finito il video, ultimi secondi, dai, ti prego, gira, questa ancora ce la fa a prendere tre metri, ancora questo trattore ce la fa per questa macchina, assumiamo l'operaio, come vi faccio vedere l'indicatore di porca, in pratica fa quella scia, tu al ritorno ci devi passare sopra, tutto lì è il gioco delle porche, quella è la porca, non ho mai visto una porca in un buco, beh, sì, comunque ci può stare, come definizione non è male male, però quello fa la porca, faccio vedere poi di qua, non lo fa neanche tanto precisa la porca, c'è quella striscia, tu al ritorno ci passi sopra col muso, quindi sai che lì è la metà del, un metro e mezzo, un metro e mezzo, in pratica fa la scia, vediamo se si avvicina, la scia a un metro e mezzo dal centro del trattore, no, a tre metri dal trattore, così tu quando poi passi hai un metro e mezzo da una parte e un metro e mezzo dall'altro per lavorare, quindi è perfetto, premiamo tab, questi sono a posto, vediamo se questo è finito, se si muove ha finito, ce la puoi fare, dai, perfetto, farà l'ultimo pezzettino credo, ah no, non lo fa, perché non lo fa, a fine della mignota, facciamolo noi allora, dai, non l'abbiamo mai fatto, allora, premi il V, premuto, premi 2, vediamo se è con la velocità 2, con la velocità 1, che devo farlo, ah, 2, e perché lui lo fa a 14 allora, fallo a 22, ci metti di meno, guarda lì, figlio della mignota, mi stanno fottendo gli operai, avete visto come mi fottevano sulla velocità, così pagano ore si paga, e loro ci mettono un sacco di tempo, invece che andare a 22 vanno a 14 loro, velocità 1, così, figlio di puttana, mi stavano fottendo, adesso non li prendiamo più, non li prendiamo, intanto scendiamo le luci, sono le 7 di sera, sono le 7 di sera, alza sto coso e andiamo a dormire, e niente, interrompiamo qui il video allora, ci vediamo con la prossima puntata, ditemi se continuare oppure fermarmi, parcheggiamo qui, basso indietro, chiudiamo questo coso, come detto, ci vediamo la prossima puntata, ciao!